Sì sicuramente, oggi è stata una grande emozione, infatti per realizzare sto cominciando adesso perché anche dopo quando abbiamo finito non avevo più nemmeno la forza di esultare a fine partita era un gol che mi ha tolto tanto però ha dato tanto a me, a tutta la gente, alla squadra quindi veramente una grande soddisfazione Quanto vale il tuo stacco eccezionale e quanto vale il cross eccezionale di Manini? No, vale tanto tutto, vale tanto anche la grande prestazione della squadra perché secondo me oggi abbiamo meritato, anche nel primo tempo non meritavamo di essere sotto abbiamo avuto tante occasioni, Dida ha fatto tante belle parate però insomma nel secondo tempo ci siamo rimesse a posto, abbiamo continuato quindi oggi è stata una vittoria sicuramente della squadra Stiamo facendo un grande campionato, adesso soprattutto in casa abbiamo battuto tutte quindi c'è da fare complimenti a tutta la squadra e sempre il merito va anche ai tifosi che quando giochiamo in casa ci danno una grandissima mano Sì è vero, sto sacrificandomi un po' di più, sono un pochino più lontano della porta a volte magari non ci sono, ci arrivo poco lucido però adesso è la squadra che conta, siamo allo sprint finale quindi se faccio con lui un altro è importante il risultato di squadra oggi è arrivato, come è arrivato anche nelle ultime settimane quindi va bene un sacrificio in più per la squadra io ho vinto perché ho vinto 2-1, sono tre punti veramente importanti, belli contro una grande squadra quindi io con i miei compagni oggi ho vinto Zoppi chi? No, una botta, una botta, niente C'era col rigore su di te nel primo tempo? Ma a me dal campo mi sembrava di sì perché volevo girarmi e sono andato giù però insomma adesso poi abbiamo vinto quindi chi se ne prega no no Grazie.